la facciamo una cooperativa di riscaldamento salve ragazzi qui a Delta in Top e sono con i miei soliti amici Rex e Grievous facciamo una cooperativa ok va benissimo giochiamo un po' oggi parleremo di episodio 6 ovvero l'episodio Queen 14 praticamente di Mandalorian però prima di parlare di Mandalorian abbia delle novità abbia dei progetti futuri nei prossimi video di Battlefront si avevamo forse intenzione di fare un video a multiscena come possiamo dire a punti di vista esatto ovvero cammino perfetto non sappiamo esattamente come faremo probabilmente abbiamo un progetto ovvero che io registro come sto facendo ora anche i miei amici registreranno e poi mi invieranno i file i video faremo dei tagli in scena in una sola partita perché ci vorrà un piccolo lavoretto di tagli per fare una cosa editing chiamato anche editing se no questa parolina bellissima però editing è top in inglese diciamo montaggio modificato ok va bene perché editing non ho favore per l'italianizzazione è brutto perché dobbiamo usare un po' l'italiano cioè sappiamo tutte parole in inglese a Genesis quando pure è l'italiano esatto no è vero tutti quanti sono sempre editing dai dai parliamo dell'episodio visto che stiamo per partire io direi diciamo grazie per il suggerimento a chi ha dato il suggerimento a Del vabbè assolutamente partite pure voi e poi io vado per ultimo perché poi sono quello che partite pure voi sì sì voglio vado a sapere anche la tua opinione allora io primo inizio tipo stappando una bottiglia di spumante che il nostro grande Francesco Pedicini che ovviamente in quanto fratelli ciclopi stimiamo tantissimo è tornato a doppiare a doppiare sì a doppiare un clone ecco possiamo dire allora per chi non ha capito stiamo parlando di Boba Fett uno direbbe come Boba Fett sì Boba Fett ragazzi per chi non si ricorda bene la lore c'è Grievous e Rex che ve lo spugano dai anzi allora Boba Fett è il famoso personaggio allora Boba Fett è tipo il più famoso personaggio di guerre stellari a livello di figaggine credo che esista sulla face della terra è ormai un personaggio che non ha bisogno di spiegazioni non è come Darth Fanner che come puoi dire si spiega da solo è un grosso uomo nero che strozza tutti e mena Boba Fett è più strano è un personaggio che inizia come figo della madonna in episodio 5 poi continua come figo della madonna per un bel pezzo di episodio 6 poi di colpo diventa un personaggio dei Lulitoons per un è arrivato Giorgio Luca si ha detto ah come lo rendiamo come le producce imperiali del nostro copino esatto e a quel punto proprio poi se ne è pentito come molte cose di Giorgio Luca se li fa le minchiave però poi se ne è pentito quindi almeno è un esporto anche nel concodrillo io le chiamo guarda Grievous guarda Grievous ha spiegato in maniera allucinante come chi è Bob però non è che ha spiegato bene veramente Bob allora Boba Fett Boba Fett è considerato in l'Università di Guardia Salari il miglior catch per l'Italia della galassia il numero uno nel suo lavoro quello che ha non posso dire che ha l'ispirazione al processo di Clint Eastwood di tutti i vari finti tipo il buono il più cattivo eccetera eccetera e questo cacciatore di tagli con un codice d'onore che letteralmente come posso dire cioè combatte ma non è cattivo non è un personaggio completamente cattivo come non lo so suo padre no sarebbe anche discutibile perché Giorgio Fett è vero che è meno diplomatico rispetto a Boba Fett assolutamente più un personaggio che mena io ancora mi ricordo del romanzo ci sono dei bellissimi romanzi che hanno fatto su Giorgio Fett e Boba Fett che si chiamano praticamente la serie di Boba Fett da bambino nel primo romanzo nel primo romanzo Giango Fett a un certo punto dice i libri sono inutili o cose del genere dice si lascia si lascia concedere delle nozioni abbastanza come posso dire da padre rude ecco vabbè ci sta fin dall'inizio Boba Fett sembra essere un ragazzo un po' più come posso dire di ampie vedute rispetto al padre perché non facciamo così facciamo un tema cronologico perché se parliamo episodio e la vecchia trilogia partiamo direttamente Django Fett chi era anzi finalmente abbiamo confermato tramite il sesto episodio le origini vere di Django Fett cosa che è stato sì io quelle là le avevo già anticipate da qualche parte ve l'avevo detto che secondo me era un trovatello ma quello che non mi aspettavo e che mi ha detto Nanni è che non solo hanno confermato che lui è un trovatello ma hanno pure confermato il nome del maestro di Django cioè del mandaloriano che ha preso Django sotto la sua ala che era Justin Dill sì e lo si legge nel testo tradotto che proietta Boba Fett si legge appunto armatura di Django Fett preso come trovatello da Juster Miril e dello tipo vabbè no ma poi hanno anche pure confermato che ha combattuto sulle guerre civili mandaloriane quindi quindi hanno praticamente riso canonico tutta tutta la storia Legends di Django Fett sono contati sono contenti questa è una cosa molto bella ah per chi è molto giovane per chi è molto giovane non sa che cos'è Legends Legends sono praticamente diciamo tutta la lore vera di Star Wars ha realizzato tutto è questo è questo è questo è detto anche universo espanso è detto anche un universo espanso però tutta la lore che praticamente gira intorno sia i film della vecchia trilogia anzi dell'originale trilogia e del primo secondo e terzo episodio pare semente gira tutto da lì in particolare io ero particolarmente affezionato a tutta la lore di Django Fett perché è un po' in stile gladiatore cioè lui era questa specie di generale generale di un esercito questo personaggio come posso dire nobile con un con un credo e tutto quanto che poi viene schiavizzato ed è costretto a fare un lavoro come posso dire di un lavoro di bassa lega per poter andare avanti a vivere ma ha ancora tutto quel senso dell'onore cioè nonostante massimo decimo meridio fa il gladiatore mentre invece Django Fett fa il catch 3 d'Italia sono entrambi considerati uno era un ex generale romano l'altro era l'ex mandalore no? poi Django Fett era l'ex mandalore era quello che guidava i veri mandaloriani contro la ronda della morte la death watch infatti il mandalorian era chiamato proprio Bob Django Fett il mandalorian la cosa bella è che anche nel legends Django Fett era figlio di un contadino tornava a casa trovava tutta la sua famiglia morta perché si trovava come posso dire nel crossfire tra lo ricordo se no quel fumetto non lo ricordo molto bello molto bello viene preso da Mr. Meeryl su tutta la sua ala poi in una seconda storia Montross che è un altro personaggio bellissimo che poi viene portato avanti nel videogioco Bandy Hunter lo tradisce tradisce Jester Meeryl perché vuole assumere lui il comando dei mandaloriani Django Fett lo scopre però cerca di vendicarlo lo caccia via dal clan e diventa lui il nuovo mandalore per un po' di anni finché a un certo punto la ronda della morte che non riesce ad averla meglio sui mandaloriani ed ecco perché a me la ronda della morte è sempre stato sul cazzo io ho sempre visti come degli infami vabbè decide di comprare gli attacchi terroristici su pianeta Galidran e dà la colpa ai veri mandaloriani quindi i Jedi decidono di aiutare il governatore di Galidran questa famosa guerra civile tra i mandaloriani che sfocia con la battaglia finale fra i Jedi e i veri mandaloriani in cui tra l'altro il capo dei Jedi mandati contro i mandaloriani non è niente un po' di meno che Dooku e quindi ha i Dooku contro i mandaloriani guidati da Django Fett che è ironia della sorte me la ricordo me la ricordo la storia del consumetto era molto molto bella infatti ci sono rimasto male che l'hanno tolto dal canone anche perché poi non l'hanno ripiazzato con niente quello che mi ha dato fastidio ce l'hanno non è più canonico ok che cos'è canonico ah boh ma non questo passano le e non si truiscono con nulla e adesso poi ci svegliamo una bella mattina e dicono ah sai che è ancora canonico più o meno e se tipo eh allora per chi mi ha detto che non era canonico ah boh George Lucas si è svegliato un giorno e ha deciso che Django Fett non era più mandaloriano così a caso i classici tiri di sai no tiri di umore è vero che Rex com'è che me li giustifici questi cambi d'umore di Lucas che si sveglia la mattina e decide di posso fare una battutaccia una battutaccia brutta ahia ah no ho ucciso una granata shock e triste posso fare una battutaccia brutta diciamo che Giorgio Lucas era in quella fase di una donna che ha le sue cose ecco ecco il suo figlio aveva detto una volta che Lucas quando stava lavorando a The Clone Wars era una persona che era stanca di Guerre Stellari che lo faceva tanto per sperimentare ma era abbastanza stanca proprio per quello che molte idee di Clone Wars certamente sono un po' spinte sono un po' svogliate date un po' a come mi gira oggi si 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 entro tanto una riflessione sull'ampio mosaico che aveva creato non lo sappiamo comunque tornando allo sempre su Django per ora Django Fett sappiamo chi è Django Fett si vede nella seconda dell'episodio in poi pratica per chi se lo ricorda e Django Fett ha dato il suo DNA per creare questa armata di clone praticamente noi siamo tutti dei Django Fett non piacciono per niente a noi non piacciono per niente per questo amiamo poco Django Fett esatto mica li stiamo usando quasi in ogni singola partita no 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 perché la no perché poi la cosa veramente bella di Django Fett di quando è stato scelto per fare la matrice dell'esercito di cloni è che lo hanno scelto perché è riuscito a uccidere l'apprendista di Dukou cioè comari vostra no era la che anche quella è una cosa genialissima non so perché l'hanno tolto dal canone ma è veramente bella l'idea cioè Dukou manda una Jedi oscura quindi una Jedi che è più potente dei normali Jedi contro come sfida finale da dover catturare come taglia da dover catturare da Django fa una sfida fra vari cacciatori di taglie e chi riesce a sconfiggere questa comari vostra questa Jedi particolarmente cattiva da solo vuol dire che tecnicamente un esercito di sue coppie bene addestrati sarebbero in grado di fare la stessa cosa sull'interordine Jedi quindi era una cosa ben programmata a parte di Dukou esatto quindi più che da Dukou diciamo dal maestro diciamo da proprio Palpatine da Sidious eh no perché in questo caso Palpatine ha detto prendi il tizio per fare i cloni è stato poi Dukou che ha come posso dire ordinato tutta quella cosa live è vero lo dico in episodio noi è stato Dukou a pro ah si 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 sto Dukou a reclutare cos'era mi ha reclutato un uomo di un tirano su una delle mie di pergoli che 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 d'altro è bellissimo perché mi ha assunto si mi ha scelto ahia che madonna oddio Dukou è datmo così a caso ti ho visto si no ma è particolarmente interessante tutta la storia di di Django Fett anche perché ti ho detto lui ha sempre questo senso dell'onore poi nei romanzi di Republic Command si scopre che c'erano ancora dei Mandaloriani sopravvissuti e lui li recluta per far addestrare i Republic Command cioè è veramente molto bella come come storia poi c'era se non ricordo male uno dei Mandaloriani che faceva delle scommesse sui cloni tipo che faceva dei tornei tra i cloni a mani nude in cui c'era una vicenda e Django Fett arriva là e ferma quelle scommesse cioè ha comunque pur sempre un senso dell'onore ha sempre poi c'è da dire una cosa perché ora arriviamo al punto più importante che ora stiamo parlando di Boba Fett dopo arriviamo tranquilli arriviamo al sesto episodio di Mandalore perché è importante questo era molto importante di far raccontare questa cosa è praticamente l'origine di Boba Fett che porta avanti quello che ha iniziato suo padre esatto Boba Fett alla fin fine lo vediamo per la prima volta in episodio 2 come bambino attenzione però non è il figlio legittimo in senso presa da qualcuno e del nato no è proprio un clone di Bob di Django però che è cresciuto come una persona normale però prende tutte le caratteristiche psicologiche e fisiche forse forse è più ragazzi non venite di qua no 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 l'altro tunnel è sguanito ok cioè io ci tengo comunque a precisare che secondo me Boba Fett è molto più di mente aperta rispetto a suo padre suo padre a causa delle circostanze era diventato un duro ma duro anche con se stesso mentre invece Boba Fett è molto più aperto anche qua nella serie lo vedi che è più diplomatico rispetto a suo padre cerca di venire a fatti Giallo Boba Fett sarebbe stato uno che passava subito alle mani sì bravo esatto non faceva troppe domande anche con Mace Windu ho sempre avuto l'impressione che è un personaggio che va tanto a istinto certe volte non ci riflette adeguatamente sulle cose però c'è da dire anche un'altra cosa c'è anche da dire un'altra cosa però eh che Giallo Boba Fett comunque è cresciuto in un modo che alla fine è nato un po' con la brutalità di un certo caso soprattutto perché ha fatto la guerra civile è stato un po' più quello che è dovuto sopravvivere più con cattiveria e chi è il più pericoloso sì sì perché poi dopo la guerra contro i Jedi che tra l'altro ha perso ha perso ammazzando a mani nuda i 4 o 5 Jedi quindi proprio livelli illegali di 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 macho ecco è diventato è stato preso schiavo è stato fatto schiavo e ci ha messo un sacco di tempo prima di diciamo riottenere la sua armatura e potersi vendicare dell'arona della morte che lo aveva tradito quindi la sua è anche una storia di riscatto di trovare una sorta di come posso dire di vita tranquilla ma comunque è sempre una vita un po' miserabile è sempre un po' una vita da da schiavo per certi aspetti ecco comunque lui è il leader del quale gli è morto l'esercito aspetta un secondo Rex 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 c'è un problema con Rex è fermo sta un po' laggando mi è arrivata la lag pesante poca era ho notato guarda non è quello che sta arrivando io ci provo non mi garantisco niente ma ci provo no comunque si Django Fett si poi arriviamo con Boba Fett quindi Boba Fett alla fine appare per la prima volta poi come personaggio Boba Fett Boba Fett venne di sicuro cresciuto molto meglio rispetto a non posso dire a Django Fett perché Django Fett è stato è nato dovendo diventare un guerriero poi il leader di quei guerrieri perché gli è morto il mentore Boba Fett e poi reinventarsi come caccia tritaglie mentre invece Boba Fett praticamente nasce già con una strada ben chiave davanti a lui lui adora suo padre il suo idolo il suo eroe ed è quello che diventerà poi lui quindi per certi aspetti ha avuto una vita più chiara ecco una strada nella vita molto più chiara rispetto a Django però sì però attenzione lui è sopravvistuto anche grazie alla furbizia che lui dalla furbizia da lì inizia a capire che no 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 ma non metti in dubbio che le sfide che ha superato non siano toste anche perché non è che qualche furbizia però no no infatti assolutamente quello che voglio dire è che non si è mai sentito perso completamente come Django esatto ecco Django ha avuto un altro tipo di taccotto però anche quelle taccotti di vita molto diverse appunto uno molto più tracciato l'altro molto più incerto sì perché anche alla fin fine viene da pensare che Django anche lui si è lasciato consumare dalla vendetta che va verso i Jedi e la sua voglia di come posso dire mettersi alla prova con Mishu Hindu cioè anche là quando arrivi nel P2 dici dove si sarebbe fermato Django Fett cioè voleva anche lui uccidere tutti i Jedi uno contro uno cioè era quella la sua la sua idea anche se posso dire che la sua morte è stata poi stupida però dettagli ma no in realtà cerca di scappare il Jetpack non gli funziona ed è morto con la rapidità con cui si muore e se combatti contro un Jedi non riesce a scappare e no è appunto una morte un po' triste che aveva fatto una figazzine con Obi-Wan capi? so quello è ma perché a quale fatto che ti ho detto è perché non gli andava il Jetpack anche Obi-Wan alla prima volta che lo affronta fa il tendente per finirlo e lui vola via col Jetpack sì vero il fatto è che lo stile di combattimento che devi adottare contro i Jedi prevede così tante volte l'uso del Jetpack che tu ho detto basta che non ti vada e sei fregato e non ho fatto ha avuto quell'attimo di esitazione al momento peggiore ci stanno massacrando bisogna di un eroe ragazzi io sto prendendo Anakin ok una tattica un pesante e un eroe io prendo il drone ok bravo suporto in realtà fai pesante fai pesante suporto grazie che mi hai avvisato di obbligare grazie chiudi Grievous SpawnKiller arrivo che stavo dicendo no comunque poi dopo tutto questo ma con una bosk bosk diciamo che siamo partiti dalla recensione e siamo arrivati diciamo a un no no però è meglio così è più importante no no è molto importante prima di parlare in attività ma è che quello che dico siamo partiti dalla recensione siamo arrivati su un topic molto importante esatto è collegato ma che si capito un po' qual è il punto di Boba Fett perché Boba Fett è così importante come personaggio se non parli di suo padre non vai un po' al punto no si perché poi c'è una cosa che poi va poi crescendo che ha fatto comunque giovane tutta l'era della guerra dei coloni praticamente ma questo siamo già alla next gen però considerando invece la versione old quella bar per la prima volta Boba Fett in realtà non era nessuno come personaggio si è stato messo lì come un nemico che dovevano affrontare prima o poi i nostri eroi della vecchia trilogia no? dell'originale era il classico scagnozzo che almeno così viene tirato in balle nel episodio 6 esatto il scagnozzo che deve essere sconfitto quando ammazzi il suo padrone diciamo sì taliziamente sì è la cosa più bella che ha avuto molto successo un personaggio che in realtà doveva solo fare un'apparizione in un certo senso e quella è la cosa che ha sorpreso ma perché un'armatura così figa siamo onesti non puoi non prenderlo in considerazione siamo onesti dai io credo che ci sia anche un altro motivo cioè analizzando la produzione di episodio 5 che è un po' particolare perché episodio 5 ovviamente è un film considerato il massimo esponente della trilogia originale chi più chi meno insomma quasi tutti lo considerano il miglior film dei tre originali però a livello di costumi è il film con meno budget rispetto ai tre e quindi è interessante notare come invece tipo che ne so i piloti di AT&T sono semplicemente i piloti thai che sono stati ridi esatto molto basilare come idea di costuming invece stranamente con Boba Fett hanno deciso riprendere metà di quel budget e disfondarlo tutto su Boba Fett non so che idea avessero però tutti i termini originari Mandaloriano Super Commando e tante altre robe tutto il design particolarmente figo di Boba Fett che è la chiave anche un po' detto al suo personaggio mi sono successo anche con il suo personaggio perché adorizio proprio in tutta quella lavorazione pesante che ci hanno messo nel 78 e io non ho capito perché cacchio ci hanno vissuto quella lavorazione se poi doveva essere un uno scagnotto di secondo livello cioè lui è di sicuro il migliore dei cacciatori di taglie almeno quelli di episode 5 e noi ovviamente abbiamo scontato che Darth Fener selezioni i migliori cacciatori di taglie della galassia quindi già questo di default dovrà mettere Boba Fett su piani altissimi perché dice è il migliore dei migliori scelti da Fener la frotta imperiale ha fallito Boba Fett riesce a vincere quindi già di base crea un hype gigantesco poi vuoi anche il design che era particolarmente vincente è estremamente ricco come giocattolo perché ha miglia congegni che spavano dappertutto è abbastanza facile capire perché Boba poi ha avuto il successo che ha avuto poi mette anche che ha avuto un po' giocattolo aspetta andiamo un po' oltre aspetta andiamo comunque al punto il punto è che Boba Fett perché continua a essere portato avanti così tante volte di tanti anni perché noi ci facciamo così tanto una storia dietro al fatto che sia tornato quando pensavamo fosse morto anche lì c'è una roba da dire quello aspetta ci arriviamo ma ci arriviamo là anzi quello è un altro punto che dobbiamo toccare adesso parlare bene Boba Fett perché io poi l'ho vita l'originale trilogia la classica io l'ho vista quando ero bambino ok però io vi assicuro che non capivo una mazza di quello che stavo guardando ero troppo piccolo vi parlo che appunto avevo 5 anni 6 anni quindi la prima volta Star Wars anzi Guerre Stellari siamo onesti Guerre Stellari noi così l'abbiamo chiamato Star Wars l'abbiamo chiamato l'episodio 1,2,3 ma la prima saga è stata Guerre Stellari cioè l'originale trilogia è stata chiamata così manteniamo questa cosa rispettosa dal titolo e che succede parlo troppa gente è successo che quando io vedi la vecchia trilogia io la prima cosa che mi sono sempre fissato è stato questo a TST la battaglia su Otto con i camminatori e gli imperiali e il Boba Fett punto cioè io mi sono interessato specialmente su quello cioè non mi è interessato niente della storia non capivo nulla non capivo nulla infatti ho dovuto riguardarmelo molto più avanti anche sia prima e dopo l'episodio 1 cioè dopo che iniziai a capire l'italiano e ho compreso qualcosa ma molte cose ero nel dubbio che non comprendevo poi grazie all'episodio 1,2 e 3 mi hanno fatto scoprire tante cose e Boba Fett io non avevo ancora capito che era quel bambino in episodio 2 che l'ho scoperto dopo lo iniziai a comprendere a realizzare perché l'armatura quando la vedi gli dissi oddio quell'armatura ce l'ho vista poi ho realizzato che questo è prima del quarto e quinto e sesto episodio e allora ho detto aspetta ma non dimmi che quello è il fi e infatti poi lo ha azzeccato però ha avuto tanto di quel successo perché siamo sinceri lo stile di Boba Fett è bello cioè hanno scelto uno stile cattivissimo di Boba Fett che attira perché è elegante siamo onesti è elegante non è un ma quello è un turbizio di non renderlo un cattivo chiaro di renderlo questo personaggio onorevole e quindi anche molto abbiamo sbagliato strato sì no semplicemente è su una strada diversa rispetto ai nostri eroi cioè da dove tutti i personaggi sono o imperiali o ribelli oppure in una zona grigia sì esatto o sì no oppure peggio di tutti e due tipo Jabba e compagnia bella vedere un personaggio come Boba Fett è veramente una boccata d'aria fresca sì vero infatti non mi sorprende che i fan ecco della vecchia trilogia volevo dire no non può morire in quel modo ma già prima dell'episodio 1,2,3 o del 2 che si è mostrato tutti quanti dicevano che cavolo può finire così un personaggio che è stato esteticamente troppo bello e sembra che ha fatto comunque qualcosa diciamo che o non erano neanche loro consapevoli di quanto figo fosse in episode 5 che può essere può essere credo più che questo è di figaggine credo che è una questione che ha dato quella sensazione che sto personaggio fa qualcosa non sappiamo cosa che poi invece ha seguito i nostri protagonisti allora ti dico la mia seconda teoria la mia seconda teoria è che hanno fatto Boba Fett strafigo George Lucas non si è guardato episode 5 abbastanza volte e lui non ha capito che era così figo e ha detto ah ok adesso faccio io la scena in cui Boba Fett muore tanto che se ne frega e poi scopre che ha fatto una scelta del cazzo e se ne pente come abbiamo detto le famose lacrime di codrillo di George Lucas no perché la morte di Boba è stata la più stupida che abbia mai visto io ribadisco lo dirò sempre è un insulto al personaggio è un insulto e poi è estremamente umiliante anche veramente cioè non so che cosa dire io che ho visto per la prima volta l'episodio 6 senza vedere l'episodio 5 pensavo che Boba Fett fosse un ragazzino che giocava a fare i supereroi e qua credo ho detto tutto questa è stata l'impressione che mi ha fatta nel vederlo nel nel codrillo nel 6 ho detto ah questo è il classico sfigatello che si atteggia tanto per fare il figo invece poi alla fine no infatti no comunque Boba Fett c'è da dire una cosa prima di parlare finalmente della sesta puntata di The Mandalore ha avuto più successo Boba Fett che è un cacciatore di taglie che Fasma Fasma nella nuova trilogia che era un generale delle armate del primo ordine un generale un comandante cioè aveva un'importanza estremamente più elevata e ha fatto ma con Fasma credo semplicemente non sappiano cosa fargli fare quello è il fatto proprio non avevo un'idea non aveva un'altra scena che poteva lì ero l'antagliata quindi sentiamo a profondità al personaggio sì potevo dare una profondità no ma anche con la scena lì comunque secondo me era l'inizio per farci qualcosa di più cioè era comunque una scena che è comunque insoddisfacente perché dici ah ok quindi cosa facciamo questo personaggio no si muore Fasma è un personaggio così bello visivamente che vorresti vederli far far qualcosa di più significativo invece Boba Fett è diverso perché o meglio sono in parte simili perché sono entrambi i personaggi che ispirano tanto ma poi nei film fanno poco sono che Fasma non so come dire a me mi dispiace anche per l'attrice a me mi dispiace Fasma rappresenta meno cose nuove perché Fasma in quanto traditrice è una cosa che abbiamo già visto mille miglia anche se poi non la mancomo strada mancano avuto proprio di quella scena un discorso del traditrice in realtà deriva fuori un po' in quella scena lì che però neanche tanto in realtà viene fuori tanto in un fumetto sì forse voi avete un fumetto che è proprio capitano fatta quello è bellissimo veramente un bel filmetto e lì dà una profondità paurosa al personaggio ed è veramente veramente bello ah no no ma 3x4 non sai che io 3x4 non sai che io ho parlato col tizio che stava lavorando sul fumetto quando ci stava lavorando che si chiama già lui? Checchetto eh bravo Checchetto perché lui è veneziano perché lui è veneziano e ha fatto una una cosa una sessione di incontro in una scuola qua a Venezia allora io ne ho approfitto ma che culo e allora abbiamo chiacchierato un po' ed è bello perché lui stesso diceva cioè lui stesso non ci credeva al personaggio diceva no devo fare questo fumetto su donna giocattolo la chiamava lui la donna giocattolo quindi ti dà l'idea di quanto male la vedessi insomma come cosa lui è il gran fan del bombo ragno invece ma infatti io cioè che leggo spider me lo sapete da tantissimi anni quando ho fatto le storie disegnate da lui sono bellissime a me i suoi disegni piacciono tantissime veramente veramente è molto bravo fino a che poi tu te ne intendi più di me quindi no per me è stato un piacere quando a un certo punto mi ha detto ah che carini i tuoi disegni tipo quando abbiamo fatto del rompcio di Grievous l'avevo fatto gli era particolarmente è un po' di vecchia ma questo è veramente grande soddisfazione immagino tanto devo poi farti vedere sai quel disegnatore che ti avevo detto che mi aveva fatto i geni dei personaggi di Dunger con Dragon si si adesso mi ha già fatto praticamente i disegni di tutto di farlo no quindi di 5 personaggi quindi ti devo mandare il fatto veramente bene mentre mi ce l'ha consegnato già da ieri dal tuo ieri è stato molto bello quindi ti dai una valutazione e anche se quando stacchiamo ti faccio vedere voglio sapere una tua valutazione economica ok dai volentieri torniamo al topic dell'episodio qua che esatto no no comunque alla fin fine quindi Boba Fett è stato un simbolo già della vecchia teologia sbarra anche della nuova essendo che poi è stato mostrato e cose va poi giustamente la lore sua è molto interessante essere un clone di Django ok dopo tutto questo che poi l'attore io l'unica mini parentesi che voglio aprire è che a me Boba Fett giovane era particolarmente piaciuto perché avevo l'età di Boba quando ho guardato l'episodio 2 no quindi per me era bello perché era l'unico personaggio in questa saga piena di gente adulta che mi rappresentasse un po' al presente quindi aveva quell'aspetto che mi era sempre affascinato insomma un po' ecco vedere un personaggio come Bobo a livello cioè però bambino insomma di sicuro molto diverso rispetto ad Anakin's che è un po' che è un po' sì sì assolutamente sì precisamente concordo normale meno bimbo si prodigione comunque bene mo che abbiamo parlato di Fendi Boba Fett abbiamo fatto capire chi è figlio di chi che è un clone stesso di tuo padre quindi alla faccia lui dice io non ho non ho un padre sono io mio padre quindi c'è tecnicamente però ora parliamo del sesto episodio dopo tanto tempo fino al mezzo ci siamo riusciti abbiamo finito pure questa taran sì allora diciamo che l'episodio inizia con Mando che parliamo veramente trolla 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 grono no grogo come si chiama grogo vabbè quel coso baby Yoda Dio guarda come mi viene addosso è di tu nell'angolino ti ho trovato salvato ma sono morto mi ha visto e fatto io vi faccio la solita domanda la vostra impressione se vi è piaciuto o meno il sesto episodio solo questo poi analizziamo io posso dire che mi è piaciuto poi dirò le mie impressioni a me è molto piaciuto un po' meno su alcune cose ma spero che le cose negative le discutiamo dopo quando parliamo della della trama della sinossi allora già il nostro caro Mando Mandalorian bello e buono doveva andare a portare questo baby Yoda questo poverino in questo pianeta disperso che praticamente mi fa ricordare Las Vegas cioè proprio il set cinematografico di Tremors però in un certo senso dai ragazzi tutte rocce cose si si con po' di arbusti vegetazione bassa praticamente come si chiama quel signore con gli occhiali di Tremors Bart 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 poi che hanno fatto sei film guarda che hanno fatto il quarto il quinto il quinto e sesto gli ultimi due film l'hanno fatto la po' in tvd li hanno fatti in tvd e io le ho tutte e due hanno fatto finalmente la conclusione della saga di Tremors migliore al secondo secondo ah migliore al secondo secondo il fantastico no ma tu ti sei visto il quinto e il sesto film no mi mancano gli ultimi no veditelo che è simbatico no aspetta che sei il sette sono sette perché il quattro non lo vogliono contare andate che fa troppo schifo il quattro ah ok no ma è bene il quattro è inguardabile vabbè il terzo è comico comunque ritornando a noi tematica ma qua mettiamo anche Tremors dentro non finiamo più sì esatto esatto sì sì parliamo pure Tremors non è cosa